Ovviamente guardiamo le scorse partite, hanno giocato contro Edimburgo, stiamo guardando quelle, anche le prime, per capire bene come giocano, quale ritmi usano spesso, così possiamo mettere insieme un piano di gioco come combattere o overcome loro difesa, anche difendere contro loro attacco. Ovviamente le altre squadre hanno giocato, quindi questo è un vantaggio, però come stiamo allenando e l'intensità che stiamo portando ai allenamenti non penso che avrebbe un grande effetto negativo, siamo fisicamente forse un po' più riposati, quindi questo potrebbe anche essere un vantaggio per noi. Loro sono una squadra che è molto fisica al punto di incontro, quindi abbiamo messo un focus sulla pulizia del rock questa settimana, non voglio dire ovviamente troppo, però sì, sono una bella squadra che piace giocare anche, quindi abbiamo messo in place qualche gioco, qualche piano per combattere questo. Ovviamente, come ogni giocatore direi, giocare il più possibile, mettere una confidenza nei allenatori che posso sempre giocare, che posso sempre portare qualcosa in campo, quando scendo in campo, ma anche ogni allenamento, ogni settimana, bisogna rendere conto dei aspettativi, dei progressi, progression che sto facendo, quindi crescere e migliorare come giocatore.